Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e... Bitcoin. Abbiamo davvero tante, tante cose da dire, quindi prendetevi una camomilla, fidatevi, vi servirà, mettetevi comodi e godetevi il video. Bitcoin nelle ultime settimane ha ballato parecchio, passando da un massimo di 65.000 dollari circa ai 35.000 di oggi, nel momento esatto in cui sto registrando, potrebbe essere diverso nel momento in cui lo state guardando. Nei giorni scorsi però è anche collassato fino ad arrivare a 30.000 dollari, perdendo praticamente più del 20% in un solo giorno. Ho voluto far passare qualche giorno per far sbollire un po' gli animi, però adesso facciamo davvero qualche riflessione. Ho deciso di dividere il video in sezioni, così vi è più facile seguire il discorso, perché tutti i punti che vado a trattare non sono necessariamente collegati tra loro, ma sono tutte cose molto importanti che voglio assolutamente dirvi. Iniziamo con il primo punto, Elon Musk. Sapete tutti che io per Elon Musk non ho una grande simpatia, è una cosa che non ho mai nascosto. Tuttavia penso che Elon Musk sia un bravissimo imprenditore, Tesla e SpaceX ne sono la prova e penso che né io né probabilmente chi sta guardando questo video avremmo fatto mai un decimo di quello che è riuscito a fare. Prima però di parlare di Elon Musk come imprenditore, e tra poco lo faremo, voglio parlare un secondo di Elon Musk persona. Ho sempre pensato che Elon Musk fosse eccentrico, come molti altri suoi colleghi se vogliamo, ma mi sono sempre più fatto l'idea che Elon Musk abbia delle tendenze quasi sociopatiche, o asociali, o antisociali. Non sono uno psicologo, metto le mani avanti, e anche se lo fossi mai mi azzarderei a fare una diagnosi a distanza, la mia è solo un'osservazione esterna. Però ci sono state tante, tantissime situazioni in cui Musk ha espresso degli evidenti comportamenti antisociali. Se volete una lista abbastanza fornita ho trovato un video molto interessante che riassume un pochino alcune vicende di Elon Musk, ve lo lascio qui in alto. Mettiamo subito in chiaro che un comportamento antisociale non è necessariamente una cosa negativa, è una cosa appunto antisociale, che spesso non si riesce ad adattare al contesto sociale in cui viviamo. A volte queste persone vengono identificate come eccentriche, ma nulla di più. Le stesse critiche venivano rivolte anche a Steve Jobs, per intenderci, in misura molto minore, e la stessa foto di Einstein con la lingua in fuori, beh, rappresenta un comportamento antisociale, se vogliamo. Finché quindi l'antisocialità è lieve, nulla di grave, anzi ben venga, non dobbiamo mica essere tutti con lo stampino. Quando però l'antisocialità arriva ai suoi estremi, ecco che allora lì si entra veramente in un ambito negativo, perché è spesso un comportamento associato all'incapacità di provare rimorso, senso di colpa o anche empatia. Ed ecco che allora le cose possono degenerare. Gli ultimi tweet di Elon Musk a proposito di Bitcoin hanno inasprito ancora di più i miei sospetti. Il primo tweet di qualche tempo fa annunciava che Tesla avrebbe utilizzato Bitcoin come mezzo di pagamento, il secondo invece di qualche giorno fa ha ritrattato tutto, dando la colpa poi all'ambiente, non si sa bene per quale motivo. Se Elon Musk, come penso, avesse tendenze sociopatiche, allora non si sarebbe accorto che questo suo comportamento ha causato dei danni e ha fatto perdere soldi a un sacco di gente. Personalmente infatti voglio sperare che ci sia la buona fede in questo caso e che Elon Musk non abbia davvero intenzioni negative, che quindi voglia causare un danno alle persone. Se però escludiamo questa mia ipotesi, l'unica opzione che rimane è quella che Elon Musk abbia effettivamente attuato questi comportamenti con intenzione di nuocere alla gente pur di arricchirsi. Ripeto, secondo me non è questa opzione, è la precedente, però lascio a voi il giudizio. In entrambi i casi però i tweet di quest'uomo sono pericolosi. E allora perché le autorità non fanno niente? Dov'è la SEC, la Security and Exchange Commission, che dovrebbe vigilare sui mercati finanziari? Vi chiedo una cosa, avete presente quando ogni tanto vi metto in guardia sul fatto che ci sono dei mercati non regolamentati e quindi bisogna fare attenzione? Non è solo una roba di burocrazia, è proprio questo il punto. Significa praticamente che non ci sono tutele per chi opera in mercati non regolamentati, non c'è un ente regolatore che vigila su questi mercati perché non ha giurisdizione su questi mercati. Per quanto trovi quindi assurdo, veramente assurdo, che Elon Musk per qualsiasi motivo possa fare tweet simili finché si tratta di Bitcoin, può fare quello che vuole. Quando infatti aveva fatto la stessa cosa ma riguardo Tesla, quando alcuni se lo ricorderanno diceva di volerla delistare e poi si è rivelato che non era effettivamente così, che insomma c'erano delle cose che non andavano, lì è intervenuta la SEC, ma perché si parlava di azioni. Quindi Elon Musk su Bitcoin può fare tutto, anche manipolare il mercato. E sì, qui si è trattato di manipolazione così come era manipolazione di mercato quando ha fatto salire il prezzo con il tweet precedente. Attaccarlo ora perché ha fatto scendere il prezzo con il suo tweet e usannarlo prima perché con il tweet l'aveva fatto salire è da ignoranti. La manipolazione di mercato è pericolosa per un semplice motivo, non sappiamo come possono andare le cose e probabilmente qualcuno in tutto questo ci perderà ingiustamente. Non voglio assolutamente difendere il suo comportamento, anzi lo condanno completamente. Semplicemente fatelo anche voi, ma non solo quando il suo comportamento e la sua manipolazione va nella direzione opposta alla vostra, fatelo a prescindere. Vi andava bene quando manipolava facendo salire il mercato, ma non adesso? Avete un problema. Vedetela così, se Paolo stampa dei soldi contraffatti, di fatto delinquendo, e ve li regala, cosa fate? Lo condannate e rifiutate, oppure prima li prendete, magari li usate e dite oh che bravo, grazie che me li hai dati, poi però quando vi beccano dite che è colpa sua e che andrebbe arrestato? Capite bene che non si fa così. Torniamo però a Elon Musk imprenditore. Ci tengo davvero a insistere su questo aspetto perché c'è chi odia Elon Musk a prescindere e davvero non lo capisco. Elon Musk come imprenditore è veramente un asso. SpaceX ad esempio è arrivata a fare concorrenza ad agenzie governative come la NASA e se ce l'ha fatta è solo perché i loro lanci sono oggettivamente migliori e a meno costosi della loro controparte. Tesla poi, per quanto la si possa odiare, per quanto possa non piacere a me personalmente come auto, piace, è stata una pioniera nel mondo dell'auto elettrica. Così come il touchscreen non è stato inventato da Apple o da Steve Jobs ma c'era già prima, di fatto è stato quello che ha fatto Elon Musk. Prima ce lo ricordiamo, ovvero qual era il design delle auto elettriche, erano delle scatolette brutte, piccole, che facevano 100 km. Ecco, esistevano, certo, esistevano le auto elettriche, ma con Tesla tutto il mercato è cambiato. Tant'è che oggi ogni altro produttore copia palesemente le auto di Tesla, riga per riga, ruota per ruota. Per non parlare poi dei suoi successi in Cina, una terra dove è molto difficile condurre affari, quindi tanto di cappello. Elon però, come imprenditore, ha fatto una cosa che veramente non ho apprezzato e avrei apprezzato ancora meno se fossi stato azionista Tesla. Comprare Bitcoin. Elon Musk ha comprato un miliardo e mezzo di dollari in Bitcoin utilizzando di fatto i soldi degli investitori, scelta molto discutibile. Facile infatti dire che è stata una scelta buona quando i prezzi erano 65.000. E adesso? Non prendiamoci in giro. Ogni grande azienda quotata fa operazioni speculative di questo tipo, utilizzando i mercati finanziari. Spesso scambiano azioni anche non della propria azienda, ma di altre. Quindi non è una roba nuova, non è che Elon Musk non può speculare. Nulla di tutto ciò. Semplicemente c'è una sproporzione in quello che ha fatto. Infatti un miliardo e mezzo investito in Bitcoin, che magari fanno il più o meno 20%, su un'azienda che non arriva nemmeno a un miliardo di utili, è una scelta davvero sconsiderata. Quindi mi aspetto che Elon Musk per questa sua decisione potrebbe avere alcune rogne, potrebbe essere accusato di cattiva gestione da parte degli azionisti e chissà poi cosa potrebbe succedere. Punto numero 2. Cina. La Cina banna Bitcoin. Ah sì? Ma allora tutto quel discorso di decentralizzazione, resistenza, quasi antisistema, che fine ha fatto? Ve lo dico io. Niente. A voler essere precisi, come siamo di solito, in questo momento non è stato bannato Bitcoin, non vuol dire niente. Sono stati vietati gli scambi di cripto per istituti finanziari, quindi banche, e canali di pagamento. Non è la prima volta che la Cina mette delle strette su questo mondo. Già lo fece nel 2017 e nel 2019. E non penso sinceramente che da oggi Bitcoin non esisterà più in Cina. Una cosa però è certa. In Cina utilizzare Bitcoin diventa sempre, sempre più difficile. E io davvero non riesco a capire come si possa pensare che Bitcoin possa essere antisistema, imbannabile, infermabile, o arrivare a fare addirittura concorrenze a valute come il dollaro o l'euro. Infatti basta un click per rendere illegali le criptovalute. È vero, è molto più difficile fermare la blockchain costituita dai nodi, dai singoli miner. Ma voi personalmente mettereste soldi in qualcosa che sì, funziona, ma è di fatto molto molto difficile da utilizzare per via della legge o addirittura illegale? E se sì, quanti? Probabilmente non tanti. La regolamentazione potrebbe anche andare in direzione opposta. Noi infatti stiamo parlando della Cina, non del mondo intero. Ossia in una progressiva legalizzazione. Ma personalmente mi sembra abbastanza improbabile. Tutti questi limiti potrebbero un domani arrivare anche in Occidente. E costituirebbero un freno enorme alla crescita di Bitcoin. Quindi quando sento di gente che oggi ha 100.000 euro in Bitcoin, magari tutto il suo portafoglio, beh allora vi viene l'ansia a pensare cosa potrebbe succedere tra due e tre anni. Attenzione, con questo non dico che domani l'Unione Europea banna Bitcoin o cose del genere. Ci vorrà comunque tempo. Però quello che noto è che la gente non ha davvero la dimensione di quanto sia tutto completamente tracciato. Se in questo momento non si è ancora andati addosso a Bitcoin, non è per incapacità, perché non si riesce, perché tecnologicamente è troppo difficile da battere. È per scelta. I governi sanno tutto delle vostre finanze. E con tutto intendo tutto. A meno che non utilizziate contanti per qualsiasi cosa. In quel caso no. Ma se avete ad esempio evaso 100 euro, non è che il fisco non vi ha presi. Non vi ha voluto prendere. Chi quindi oggi non ha dichiarato Bitcoin o non ha intenzione di farlo, in futuro potrebbe correre dei guai molto seri. Lo stesso Ray Dalio ha avvertito che uno dei rischi maggiori in questo momento di Bitcoin è il fatto che possa essere messo al bando. Oggi si può comprare e vendere su un exchange, spostare liberamente sul proprio conto. Addirittura esistono delle carte di pagamento che trasformano i Bitcoin direttamente in euro e potete praticamente pagare con le criptovalute. Ma un domani se tutti questi servizi fossero illegali, beh, sarebbe molto più difficile. Tutto questo finirebbe per scoraggiare la maggior parte di chi oggi detiene Bitcoin. Me compreso. Io personalmente ci metterei forse 100 euro a questo punto in una roba del genere, ma non di più. Nessuna transazione importante infatti sarebbe possibile, perché è illegale. E a quel punto l'unica reale funzione di Bitcoin, l'unica cosa che può fare, ossia essere scambiato, verrebbe meno. A questo punto Bitcoin potrebbe perdere l'intero valore. Punto numero 3. Volatilità. Ho visto cose nel mondo dei crypto fan veramente insensate e riguardano tutte la volatilità. Gente che posta felice quando Bitcoin sale. Che posta felice quando Bitcoin scende, perché così possono comprarne ancora. Non ha senso. Ma siccome per certa gente le parole non bastano, facciamo un disegnino. Vuoi acquistare un asset? Se la risposta è sì, chiediti, l'hai già acquistato? Sì. In questo caso hai due opzioni. Il prezzo sale, sei felice perché stai guadagnando. Il prezzo scende, sei triste perché stai perdendo soldi. Se invece non l'hai ancora acquistato e il prezzo sale, sei triste perché non l'avevi ancora comprato. Se il prezzo scende, sei felice perché così compri ad un prezzo più basso. Non si può essere felici qualsiasi cosa faccia Bitcoin. Buy the dip, dicono. Ma buy the dip cosa? Se Bitcoin l'avete già acquistato, a questo punto non ha senso comprarne ancora sui ribassi perché finite per sovraesporvi. Il clima in questo momento su Bitcoin è di un'ignoranza abissale e chi dice sta roba non ha la più pallida idea di come funziona il rischio. Eh ma io faccio un piano d'accumulo quindi se scende sono contento così compro di più. Qui ovviamente si entra in un altro discorso. Ha senso fare un piano d'accumulo su qualcosa di meramente speculativo? Per me no. Un asset, lo ripeto, esclusivamente speculativo, quindi che non ha alcun tipo di valore intinseco, va trattato come asset speculativo. Entrando e uscendo quando si ritiene opportuno, massimizzando il rendimento e minimizzando il più possibile il rischio. Ritenete che invece Bitcoin abbia un valore perché la blockchain, perché la potenza di calcolo, perché non lo so, ditemi quel cavolo che volete. Benissimo, qual è questo valore? Quanto? Ditemi un numero. E perché proprio quel valore? Come ci siete arrivati? Solo vi prego non venitemi a citare la scarsità perché a quel punto vi faccio anche io degli esempi e poi dovete ribattere. La cosa che è noto è che si continua a confondere la tecnologia, che è buona, che è interessante, che ha delle potenzialità, con il prodotto che sfrutta la tecnologia. La tecnologia non è proprietaria, non è una licenza, non è un brevetto a cui si può effettivamente dare un valore perché il brevetto lo può usare solo chi lo possiede. La blockchain è universale, è a disposizione di tutti, quindi anche solo per questo motivo non ha valore. La ruota è una tecnologia fondamentale, utilissima, ma è di tutti, quindi non ha valore. Una tecnologia di produzione di un farmaco che io ho brevettato o che io ho acquistato da qualche parte la posso usare solo io per un breve periodo di tempo, quindi ha un valore enorme perché io riuscirò a monetizzarla e gli altri no. Comunque, dopo tutte queste cose che ho detto, voi siete per il lungo termine? Ok, benissimo, qui forse è l'unico punto dove ci troviamo. Anche io personalmente investo per il lungo termine, acquisto cose che possano dare valore nel lungo periodo, ma non bitcoin. Ci sono le azioni, ci sono le obbligazioni, ci sono gli ETF e perfino alcune specifiche materie prime, ma non bitcoin. Punto numero quattro, il rischio. Sto vedendo in questo periodo guru da strapazzo parlare di diversificazione, nel senso che dovete avere un portafoglio cripto diversificato tra varie criptovalute. Non cambia niente, anzi forse peggiora le cose. A meno che le altre cripto che non avete in portafoglio siano delle stable coin, quindi magari legate al dollaro, legate all'oro, diversificare non serve a niente. Se infatti il bitcoin va giù, tutte le altre cripto seguono, e tra l'altro di solito seguono con un effetto leva. Quindi se diversificare è utile perché si vuole prendere la criptovaluta migliore nel mondo che farà 100 per, ok, lo capisco. Ma se si vuole diversificare per ridurre il rischio, oh mamma mia, no. Su bitcoin non c'è alcun modo di ridurre il rischio naturalmente, se non con dei derivati particolari o attuando delle posizioni di copertura. L'unico modo che avete voi per ridurre il rischio su bitcoin è non avere bitcoin. O meglio, semplicemente riducendo la posizione o addirittura uscendo dalla posizione quando pensate che sia più probabile che bitcoin vada a scendere. E se voi pensate che in ogni istante, in ogni minuto, ad ogni ora è più probabile che bitcoin salga, che non... che bitcoin scenda, avete un problema. Nessun, nessun asset può solo salire. La mia prima e unica operazione sui bitcoin sostanziosa l'ho fatta aprendo a circa 11.000 dollari e chiudendola a 40.000. C'è anche il video dove ne parlo. Sotto il video, appunto, dove parlavo di questa operazione, ho ricevuto i peggio insulti che dicevano che avevo sbagliato, che bitcoin sarebbe arrivato a 100.000, che dovevo rimanere più lungo. Bitcoin a 100.000 ancora non c'è arrivato. E è arrivato a 65.000. In quel momento tutti arrivavano sotto i miei video a commentarmi dicendo che, visto, hai sbagliato, che codardo, che sei uscito e cose del genere. Oggi, dopo 5 mesi, quasi 6, bitcoin è ancora lì, anzi un pelo sotto nel momento in cui sto registrando. Restando quindi all'interno di bitcoin avrei assistito in questo periodo ad una volatilità estrema, veramente da capogiro, realizzando però zero rendimenti, anzi una leggera perdita. Se invece, come ho fatto, avessi venduto bitcoin a gennaio, spostando quello che avevo ricavato sull'azionario, oggi avrei realizzato dei rendimenti positivi e con molto, molto meno rischio. E ci tengo a precisarla questa cosa, non è assolutamente una cosa che sto dicendo per vantarmi, anzi, se proprio vogliamo, ho anche sbagliato, perché se l'avessi gestita meglio magari sarei stati pure in grado di vendere a 60.000 e non a 40.000, che è comunque una bella differenza. Però a posteriori sono bravi tutti. Il senso è, volete ridurre il rischio delle posizioni in bitcoin? Riducetele. Vendete quando pensate che bitcoin possa scendere. Avete un'idea sul fatto che bitcoin possa andare su o giù? Comportatevi di conseguenza. Eh ma odl! Odl un c***o, va bene? Odl, o old, non so perché la storpiatura, è una filosofia che va bene per le azioni. Io mi compro, titolo a caso, Intel, penso che possa andare bene. Tra tre anni, se Intel in borsa non ha per formato granché, ma è la stessa identicazione che mi sono comprato, non ho problemi a tenermela, perché penso che appunto non sia cambiato nulla e che quindi possa ancora realizzare dei rendimenti. Se prima lo ritenevo sottovalutato, lo ritengo sottovalutato anche adesso. Quindi oldo, quindi tengo. Con un asset speculativo però, old, non ha senso. Mi è stato dato del pavido perché ho venduto. Ragazzi, io ho preso posizione con i miei soldi, tra l'altro, non a parole, come hanno fatto molti nello stesso periodo. E questa cosa, nel mio caso, ha avuto un esito positivo. Il punto però non è quello. Avrei anche potuto perdere soldi, ma ho preso una posizione. Oldo, a me sembra tanto una scusa per non prendere posizione, un dolce far niente con la scusa di «Eh, ma tanto ci investo solo quello che sono disposto a perdere». Eh? Che sono disposto a perdere? Ma cosa state dicendo? Se comprate, se volete speculare in qualcosa e perché volete guadagnarci, non perdere. Perché comprare bitcoin non ha nessun tipo di aspetto ludico, non è divertente comprare bitcoin. È un click, è una roba noiosissima, se vogliamo. Quindi, se lo fate, è solo perché vi aspettate che possa salire. Se invece vi mettete nella mentalità di chi «Si, lo compro, ma tanto se li perdo fa niente», beh, non è speculare, non è investire, è giocare d'azzardo. Questa è una cosa che io direi, il giorno che dico «Voglio andare a Las Vegas a farmi l'esperienza, mi porto 100-200 euro, li brucio tutti, ma almeno mi diverto quella volta nella vita o roba del genere». Poi, in realtà, non sono un fan del gioco d'azzardo, ma è per capirci. In questo caso, io infatti, non avrò nessun tipo di pretesa di rendimento, perché so come funziona il gioco d'azzardo, ho le probabilità a mio sfavore. Volete buttare soldi? Bitcoin è la scelta giusta, potete usare il mio IBAN, se volete ve lo passo, mi fate un bonifico. Gli unici, unici che conosco che hanno fatto soldi con Bitcoin, e non intendo che hanno ancora posizioni aperte, ma che hanno fatto cash out, che hanno venduto, sono persone che, altro che perdere soldi, altro che essere disposte a perdere soldi, volevano farli. In questo momento io non sono né rialzista né ribassista su Bitcoin, non ho posizioni. Apro una piccolissima parentesi, in questo momento, come ho detto nel video, non ho delle posizioni su Bitcoin, ma si sta muovendo abbastanza in fretta, io lo sto tenendo monitorato, quindi dovessi entrare in Bitcoin, non farò ovviamente un altro video, perché non serve a niente, ma probabilmente posterei l'aggiornamento su Instagram, quindi se siete interessati a sapere cosa faccio, seguitemi lì. In questo caso i miei soldi sono fuori da Bitcoin, e per questo motivo quindi non mi metto a fare previsioni sul prezzo di breve periodo. So solo che continuerò a trattare Bitcoin come ho sempre fatto. Penso che possa salire? Lo compro. Penso che possa scendere? Lo vendo. Ciao a tutti.